bella ragazzi mi è arrivato un nuovo pacco ora vi faccio vedere che cazzo esce fuori vediamo cosa c'è dentro ok un cazzo andiamo subito a spacchettare come vedete c'è un nuovo numero 9 e che cazzo fa riprenderà questa del reato preso su social shop codice escondo per risparmiare andiamo a spacchettare versione fan non player version una bestia questa al city la prende alla stroppia vediamo com'è fatta patch champions ovviamente cucito viva fondation new patch da madrid cucito a perfezione adidas anche stampato emirizzo e better sponsor aereo ready qui ci sono piccoli stemmi del reato etichetta adidas s etichetta roma madrid guardiamo che sono repliche stampato anche qui ci sono i scudetti numero 9 stemmer madrid del numero maglia classica bianca con questo colletto viola che formato diverso polo bottone vende ragazzi sti capper de timbo frasciuviti etichetta adidas s madrid cari in vedrini dalla ragazzi mi lascio attivano in descrizione con il codice secondo volte risparmiare qualcosa